Oh no! Sono di nuovo in trappola! Il dio cattivo Kiflom mi ha sfidato e ora ogni volta che andrò a sbattere, l'universo cambierà. Come sempre, devo stare molto attento, altrimenti se perdo potrei morire. O peggio, potrei rimanere in un universo per sempre. Kiflom, come va? Robby? Io mi chiamo Roberto, no Robby? Sei pronto? Oh mio Dio, adesso è così che Kiflom comunica con me, con i cartelloni dell'autostrada! Ok, non sono pronto, perché? Che cosa succede? Niente? Non succede niente? Kiflom? Pronto per cosa, Kiflom? Tra poco lo vedrai Roberto, ma perché adesso comunichi con me tramite? Ok, ok, calma e pazienza, ok? Come sempre, no, 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 perché è tutto buio adesso? Oh mamma, oh, sono... non è successo, non è cambi... Cosa? Un ur... che cos'è? Un urus performante! Ok Kiflom, però se tu mi... se potessi avere una targa... Poi mi ferma la polizia... ok, non facciamo domande a Kiflom. Vediamo che cosa devo fare, quindi devo... non mi ha dato nessuna indicazione. Aspettate che mi metto un attimo qua, perché io ho paura di quello che succederà. Ma sembra tutto tranquillo oggi. Per una volta ragazzi è tutto tranquillo! Oh oh, mio Dio finalmente! Kiflom però nasconde sempre qualcosa. Eeeh... che cosa dovrò fare? Ecco, neanche finito di dire... ok, ho una navigazione 5 chi... Lometri e quello lì mi stava per... avete visto? 5 chilometri e sono arrivato, quindi... Io credo adesso di dover andare... Eh, là senza... senza... nooo! Non ci posso... Mi stavo mettendo la cittura di sicurezza ragazzi! Ok, che cos'è questa? Una Dodge Viper pazzesca! Che kit è ragazzi? Scrivetemi qua sotto nei commenti se avete idea di che kit... Io non ho mai visto nulla... Ma lascia delle scie rosse o è una mia impressione? La vedete? Tipo... vabbè, ok, ora lasciamo... Lasciamo... ovvio, Dio ma sei veloce! Guardate l'interno, è moolto base ma devo evitare di colpire qualcosa Perché sapete come funziona? L'abbiamo capito! Kiflom cambierà la mia auto ogni volta che andrò a sbattere! E quindi ecco perché la sfida! Non avevo capito che cosa voleva farci fare Kiflom di nuovo Ma questa volta... Eeeh... Meno male che curva sta... Sta... sta andando a sbattere contro il guardrail! E quindi... Aspettate, aspettate, aspettate... Oh, non frena però! Ma frena malissimo! Ok, questo lo devo tenere bene a mente e frena malissimo! Quindi mi ha dato una navigazione tra due chilometri e ottanta E io devo raggiungere quella Ma aspettate un attimo che voglio capire Kiflom! Eeeh... Aspettate, devo trovare un coso alto stradale Mi sa per parlare con lui Questo cartellone stradale andrà bene? Kiflom! Nooo! Mi sono distratto! Nooo! Oddio, perché è adesso così? Ok Che cosa nascondi Kiflom? Che succede? Oddio! No! No, Kiflom! Dove che... Aspetta, mi trovo Kiflom! No, 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 no! Aspetta, aspetta, aspetta! Simpson! Mi trovo nella... A casa di Simpson! No, 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 no! Aspetta, si... Kiflom! No, Kiflom! No, 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 no! Non ci posso credere! No, 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 no! Ehi, 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 ehi! Scusami! Scusami! Non è possibile! Scusa! È un'allucinazione! O siamo davvero a casa di Simpson? Scusami! Tu! Non mi sembri di Simpson tu! Non sei gialla! Aspetta! Aspetta! È un'allucinazione! È vero che è un'allucinazione! Oh, no! No, non ci posso credere! Ok! Che devo fare? Che devo fare? Ma che cas... No! Omer? Ma che ci fai qui, Omer? No, 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 no! Che... Che cosa sta... Che... Ma che caspita... No, no! Oh, oh, oh! Oh, ma che fai? Omer, ma che fai? No, no, no! Aspetta, Kiflom! Kiflom, io non voglio nulla... Non voglio avere nulla a che fare con sta cosa! Fa paura! Io pensavo fosse anche carino, sinceramente... No, 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 Omer! No, no, ti prego! Che cosa... No! Perché mi guardi così? Cosa devo fare? No, allora, aspetta, Omer! Adesso dobbiamo definire un paio di cose, ok? Io non sono qui per essere... Io non so chi tu sia! Che cosa tu voglia? Accompagnami al lavoro, Roberto! Veloce! Cosa... Ma che... Ma dove sono finito? Cosa... Cosa devo fare? Io devo accompagnare Omer Simpson al lavoro con la macchina! No, no, ma Dio! Ma perché? Omer... Ok, sali a bordo, allora ti accompag... Ma io non ci... Ma dimmi dove devo andare perché non... Ma perché è tutto così scivoloso in questa città? Perché è così scivolosa questa città? Aspetta! Omer! Oh, porca miseria! Scivolo! Perché scivolo? Ok, ok, vai, 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 vai! Che suono? Ma perché? Ma perché? Ma perché? No, 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 aspetta! Non posso andare a sbattere! Contro niente, Omer! Ok! Controlla che la gomma sia a posto! Ok, a posto! Via, 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 via! No, no! Nah, mio Dio! Allora partiamo, partiamo! Allora dove... Tu lavori nella centrale Ma io lo so dal cartone Ma non è che me l'ho detto Tu lavori nella centrale Perché è così potente questa macchina È del 68 Come fare ad essere così potente Aspetta 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 Ok Kiwi Mart L'ho sfiorato Ok ho anche il tempo No mer Siamo andati a sbattere Il cyber Il cyber Il cyber track Di Simson Omer Oddio mi sa che Omer è dentro quel Omer Che ci fai dentro il cestino Esci fuori dal cestino Dobbiamo andare al lavoro Oh ok ok Vieni dai sali su Sali su cyber track Fa già ridere così ragazzi Dai ma perché Perché Kiflom ce l'ha così Ok sei più Con la testa sei leggermente Ok c'hai lo specchietto retrovisore Proprio negli occhi Però sei un pochino più comodo Sembrerebbe Oh questo si guida bene finalmente Cioè nel senso Non è che quella Continuava a scivolare Allora dimmi da che parte devo andare Io devo stare molto attento qua ragazzi Molto attento ora Questa è la chiesa Vecchè questo è contro mano Fra sei contro mano Ok Krusty Burger Aspetta 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 Più avanti Oh io vado in giro per tutta la tua città E non devo andare a sbattere Nonostante ci siano grossissimi Incidenti In giro per Springfield È pazzesco Di qua di qua Grocery Ok attenzione questo attraversa la strada Il palo della luce È troppo stretto Per questo veicolo Le strade di questa città Allora Elementary School Devo stare attento ai pedoni Oh mio dio Anche questi mi sembrano un po' Contromano Qui c'è il salto Evitiamo di fare il salto Ma perché Ma che cos'è sto posto Che Oddio Omer Aspetta io vorrei raggiungere nel tempo La 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 Do come faccio Devo fare il salto per No Sono andato a sbattare No 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 Kiflom No aspetta Kiflom no 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 Che perché 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 No 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 Kiflom aspetta Io volevo Ce la stavo facendo Non so che cosa aspettarmi adesso Oh no Che cosa sono Che cos'è Siamo in Cina No dove siamo Che succede Oh mio dio Perché così mole Oh Vola Il cyber track vola No aspetta Aspetta dove sono È tutto cyber punk Qui No 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 Non posso andare a sbattere Contro niente Oh Non posso andare Omer Ci sei ancora Omer Non c'è più Omer No Oh Oh no 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 Non capisco più niente Sto andando a sbattere ovunque Oh no Ho sbattuto di nuovo Oh Oh Mi trovo Su un traghetto Ma che caspita Kiflo ma che su Oh no Oh no Questo non è un traghetto È uno tsunami Questi sono i grattacieli più alti di lo santo se Oh mio dio No 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 Aspetta 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 Non è possibile Sto guidando sull'acqua Ma cosa significa Ok Kiflo ok Questo universo non mi piace Mi sembra un po' apocalittico E tu sai che a me non piacciono le apocalisse Le apocalissi Perché perché No no aspetta aspetta Che cos'è questo No Un elicottero della polizia Perché sono inseguito dalla polizia Che c'è un disastro ambientale gigante Di livello mille miliardi Non so che cosa sia Ma uno tsunami intero E questi hanno cercato di Di arrestare me Con l'elicottero Solamente perché io sto guidando sull'acqua Non lo so sinceramente perché Oh no 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 Come faccio a non andare a sbattere contro niente Come faccio a non andare a sbattere contro niente Perché non c'è niente a cui sbattere Qui tranne La polizia E spero che i loro proiettili Non valgano come cosa Da cui andare a sbattere Ok devo cercare di scappare Lì vedo se c'è della terra Qui Devo andare verso la terra Devo andare verso la terra Devo andare verso la terraferma Eh quella la terraferma Adesso frego Wow 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 Basta che la macchina vada ancora dopo Perché Si è È rimasta un po' sommersa Wow Ancora E quindi devo cercare di evitare Che l'acqua distrugga il mio veicolo No Ma perché Kiflum Che succede La mia macchina Ok Oh meno male che va ancora Meno male che va ancora Ok quindi Oh mi stanno sparando Dall'elicottero Ma perché Oh sto scivolando sull'acqua Giustamente Ma guardate che cosa assurda Ok ci sono quasi Ci sono quasi Vedo una strada lì Vedo una strada lì Non colpitemi Non colpitemi Non colpitemi Non colpitemi Wow Wow Che è sotto Oh mio No No Ce l'avevo quasi fatta No Oh mio dio Che Sono tornato No Quella non è la realtà Perché lì c'è un edificio sfondato Non mi piace per niente questa situazione ragazzi Che cosa Oh no 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 Ok ho un quad però Ho un quad che non va nemmeno lento Che è giusto Un quad Oh 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 Cos'è questa esplosione Oh no Questo è uno zombie Non ci posso credere No Io avevo appena detto che Avevo appena detto a Kiflon Che le cose apocalittiche Non mi piacevano E lui cosa fa Mi porta in un Un universo di zombie Ok devo stare attento a quello che Vada Contro qui Quello che Oddio Ok Oh a quanto pare Ho una direzione in cui devo andare C'è una Un'area verde Forse l'area verde È un'area di sicurezza Ok Proviamo anche perché Coincide con la centrale di polizia Quindi forse è un'area in cui io possa Essere salvo Sano e salvo Oddio però devo stare attento Devo andarci piano Perché non sembra che ci sia il tempo qui no Quindi devo evitare che Oh mio dio ma questi Cosa Ma c'è una gru No aspetta Io come faccio a non sbattere contro nulla qui Con gli zombie che mi inseguono anche Oddio non è che proprio stiano inseguendo me Però Oh ok 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 E adesso E adesso No 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 Mi piace Non mi piace Non mi piace Non mi piace Ok No meglio evitare di andare da questa Perché Oddio però Dovrei andare lì che c'è proprio uno zombie Ok ci sono Ci sono Meno male che ho un quad Oddio quanti zombie Oddio No aspetta 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 Non posso andare addosso a niente E a nessuno Oh mamma Oh mamma Ok ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta Non so come ragazzi Guardate che situazione mi trovo Ma perché Kiflom vuole fare così Perché vuole scherzare con me in questo modo Perché mi fa fare tutti questi scherzi Questi giochi È proprio sadico È tremendo Kiflom È un dio cattivo ragazzi Non c'è niente da fare Ormai l'abbiamo capito Oh mamma Ok da questa parte Sono nella zona verde Sono quasi nella zona verde E eccola qui La zona verde Oh perché sto scivolando Sono scivolato malissimo Ma per fortuna Non mi sono fatto niente Non sono andato a sbattere contro nulla Ok Eccoci Ah Sono nella zona verde Quindi qui non dovrebbero esserci zombie Giusto Giusto Oddio Quell'edificio è completamente spaccato Ok Ok Io me ne sto fermo qui Nell'area verde E nessuno mi dovrebbe toccare in teoria No Oh ma Ho una nuova posizione Ehm No Io adesso me ne sto fermo qua ragazzi Non ci casco Allora io ragazzi Oddio c'è pure la Eh anche la stazione di polizia È totalmente distrutta ma Eh Finché io sto Guardate il caro armato Che bello Ma non so come abbia fatto il caro armato Ad essere distrutto quando Uh ma forse qui c'è pure la possibilità Di entrare dentro il garage No Ho fregato Kiflom Wow Oh mio dio ma Mi ha teletrasportato Non ci posso credere C'è quando vuole qualcosa Kiflom se la prende Oddio gli zombie che mi inseguono però No eh No 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 Anche quelle mi inseguono Perché tutti mi stanno inseguendo Ehi Robby Pensavi eh No no Ma in che senso Kiflom Aspetta che cosa mi vuoi dire Kiflom No 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 Io volevo stare lì fermo Nella zona verde Kiflom Aspetta 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 Perché è pieno di zombie Che mi inseguono No 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 Oddio Come faccio come faccio come faccio Mi stanno circondando gli zombie Mi stanno Oddio circondando gli zombie No 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 Aspetta aspetta No no Sono andato a sbattere Non ci credo No Però è meglio Effettivamente Perché non volevo Rimanere in questo Universo ancora a lungo Oddio adesso Oh mio Dio, piramidi Una piramide Aspetta, 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 ma dove sono? Sono in Egitto Oddio, ti diverti, Kiflom, eh? Ti diverti e come con me, Kiflom, eh? Oh mio Dio Oh mio Dio Ma che cosa? Si può entrare anche? Oddio, ditemi che non vuole che io entri con la macchina dentro le piramidi Perché sarebbe Sarebbe particolarmente pazzesco No, 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 no Aspetta, 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 Kiflom Mi hai dato una GTR poi per fare una cosa del genere Ma sei matto Oddio, oh mamma, oddio Ok, adesso ho capito che Oh, perché tutto lampeggia Non mi piace affatto questa situazione, scusami Kiflom Devo andare a vedere che cosa c'è dentro Muoio, sinceramente Dalla curiosità, ma sta diventando sempre più basso il tetto Una mia impressione Oh mio Dio, Kiflom, ma dove mi hai portato? Aiuto Oddio, 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 non ci posso credere Questo è un labirinto E se mi perdo poi? No, 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 no Kiflom, 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 Kiflom Kiflon! Cosa devo fare? Cosa devo fare? Oh mio Dio! È un appartamento! È un appartamento qui dentro, bellissimo! È strabe... Lo? Oh no! Ah, sono tornato al punto di partenza, ok, quindi ho capito che vuoi che io vada con la macchina, ma che cosa vuoi che io faccia con questa GTR, scusami? Ma questa è una cosa pa... Zisca? Kiflon? Oh mio Dio! Cosa devi riuscire a salire sulla piramide? Ma Kiflon, ma tu sei ma... Tu! Che... Che caspita! Che caspita! Ok, allora, devo andare... Oddio, ma è altissima! Com'è? Com'è? Non ci riesco nemmeno a salire qua sopra senza che... Mio Dio, ma... 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 Ok! Ok! Oh! Wow! Wow! Oh no! 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 Nissan! Aspetta! 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 Come... Come... Qualcosa è successo però qua, ragazzi? Kiflon ci ha... Oh no! 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 Ci ha messo il suo zampino Kiflom qui Ci ha messo il suo zampino Kiflom qui Oddio, meno male che ci sono quattro notte buttrici Mi sapevo come qua Oddio Oh mio Dio, è incredibilmente impossibile che io Ci sono quasi Ci sono quasi Sto scendendo, perché, perché? No, aspetta, 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 aspetta Qua c'è lo zampino di Kiflom, qua Kiflom, oddio, oddio Mamma mia Ragazzi sto facendo una fatica incredibile E ci vuole, cioè ci vuole troppo, poco per No, 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 aspetta, aspetta Freno a mano e ripartiamo No, 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 no Sto scendendo, sto scendendo, sto scendendo, sto scendendo Perché? Aspetta, ho bisogno di Ho bisogno di prendere un momentino di Un momentino di pa, pa, pa Pausa, ok, così Forse scodando? Forse scodando? Sì, sì, scodando, scodando, scodando Nooooooo Non ci credo Nooo Non ci posso credere Oh, mio Dio Mi trovo nel deserto Vai Altro lato O leggo male io che c'è scritto tipo Vai altro lato Oh, mio Dio, ma finisce nel niente questo deserto Ok, quindi mi sa che effettivamente devo raggiungere l'altro lato del deserto Senza schiantarmi Oddio il tempo Ok, meno male che ho una Ferrari però Oh, non ci credo C'è anche il tempo Aspetta, 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 aspetta Come, che, ma come faccio senza sapere come è fatto il deserto? Qui c'è un buco ad esempio Ok, devo raggiungere l'altro lato nel minor tempo possibile E, oh, c'è un altro buco qui Oddio un benzinaio Ok, questo sembrerebbe essere una strada Oddio, attenzione, 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 attenzione Perché l'altro lato nel tempo Oh, è tutto che fa fuoco qui Oh, ok, non sono andato a sbattere Qui, Kiflom Non sono andato a sbattere Attraverso la foresta Proviamo attraverso la foresta Devo stare molto attento a quello che faccio No, 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 no Ok, non sono andato a sbattere Ah, non sono andato a sbattere Ok, da questo lato Lento, lento, ma inesorabile Ok, lento, ma violento Come dicevano una volta Ok, ci sono, ci sono, ci sono Attraverso le arterie Quale, oh, un animale Oddio, ma qua ci sono un po' di, delle buche Che non è, no, che mi piacciono Oh, tanto, 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 tanto Ok, altre robe strane E ci siamo dall'altro lato Ci siamo dall'altro lato, vero? Ci siamo dall'altro lato, vero? Oh, perché sta scivolando così? No, c'è qualcosa di che non va La mano di Kiflom qui C'è la mano di Kiflom Sì, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta È questo l'altro lato, Kiflom? È questo l'altro lato? Ce l'ho fatta? No, non è questo l'altro lato? Devo andare laggiù in fondo? Dritto per dritto laggiù? Ok, ok O forse sopra quella strada Oh, no, 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 no Non ditemi che devo andare sopra quella strada lì Oh, 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 ok Ah, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua Ok, però, freno a mano Ok, oh, attenzione al palo Ma com'è possibile che io debba andare qua sopra? È impossibile È tipo, ok Oh, attenzione, attenzione, attenzione Ma non è nemmeno qua Ma, Kiflom, mi stai trollando quanto male da 1 a 10? Troppo male È di qua Qua in fondo, eccola Ci siamo Ci siamo Siamo arrivati Dovrebbe essere qui Frena, 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 frena Siamo arrivato, Kiflom Scusa Oddio Scusa, sono arrivato È questo l'altro lato No Sto l'altro lato Giusto? Giusto? Oddio Che succede? Non ti piaceva che ho vinto? Non ti piace che ho vinto? Di la verità Non ti piace che ho vinto? Di la verità, Kiflom È incredibile, eh Guardate cosa sta facendo Sta inalzando le onde Pur di non farmi vincere Perché lui Oddio Questo non so Che cosa fosse Un tornado? Un tornado Non verrà mica nella mia direzione Il tornado Ok Oddio Ok Kiflom Stai un po' esagerando Con la rabbia Io sono Io non mi muovo da qua Sono dall'altra parte Del deserto E tu non mi smuoverai Di qui, ok? Io sono dall'altra parte Del deserto Ho tutto il diritto Di aver vinto Questa volta Ho vinto il tuo gioco È inutile che ti arrabbi Ho vinto il tuo gioco Guardate Non lo sta mica mandando Da me per fortuna Il tornado Ha Ha Ho vinto lo stesso Non ci puoi fare Assolutamente niente Ho vinto Il tuo gioco Ha Ha Oddio Oh No, no Aspetta I meteoriti no però I meteoriti no Kiflom Perché potrebbe colpirmi Un meteorite No, no, no Dai Non giocare sleale Oddio Non giocare sleale Kiflom Oddio, oddio, oddio Mi metto qua Che forse è il punto In cui meno Potrebbero toccarmi Di tutti I meteoriti In teoria Almeno Credo Oddio, 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 oddio Però devo avere sfortuna Che un meteorite Colpisca proprio Me No, no, no No, no Non mi ha colpito Kiflom Non mi aveva colpito Kiflom No, e niente Le sue carte Le carte sono In suo favore Sempre Cioè, ma si può Si può essere così Terribilmente 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 Sono su una Bugatti Veyron Un po' modificata In un posto che non conosco In un In un I Clayfield Oh Oddio Wow Questa macchina Non mi sembra molto originale A me ricorda qualcosa Questo ragazzi Mi ricorda qualcosa Questo gioco Questa mappa Però non ricordo esattamente Che cosa Piano 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 Mio Dio Però mi ricorda qualcosa Ragazzi È di un Need for Speed Forse Carbon No, non mi ricordo Scusate Sono ancora un po' perplesso Perché non riesco a capire Bene da dove viene Però me la ricordo Questa galleria Hmm Attenzione Perché ragazzi Sapete che Oh Adesso che abbiamo una Bugatti Ed è molto veloce È vero che è una trazione incredibile Ma se dovessimo andare a sbattere Io vorrei capire che Forest Green Country Club Eppure qualcosa ragazzi Mi ricorda Non lo so Scrivetemelo qua sotto Nei commenti Che mappa Si tratta Aspettate Forse potrebbe essere Most Wanted Non ricordo Ma confermatemelo voi Nei commenti Ma in ogni caso ragazzi Qua sembra essere Tutto tranquillo Ed è una strada Talmente larga Che riesco a guidare Anche a 300 all'ora Senza schiantarmi È fanta Casella autostradale È fantastico Uh ma guardate laggiù Che città c'è Oh piano piano Che voglio raggiungere Quella città lì Guardate Enorme Con i grattacieli Oh mio dio È pazzesco Keflom Grazie Mi stai facendo rivivere Una memoria Della mia infanzia Ma soprattutto Cioè nel senso Oh Voglio vedere quel posto lì Downtown Ok downtown Provia Burger King Ah no Sì Burger King Proprio scritto con il logo Vero Ma dove siamo Non so esattamente dove sto andando ragazzi Ma voglio raggiungere Quei grattacieli Se possibile Ok Ok di qua Di qua Di qua Di qua Pazzesco Guardate Ma enorme Questo posto E non c'è nessuno Il che è ovviamente Zampino di Kiflo Ma siamo in città Eccolo qua Ok la città sinceramente Non me la ricordo Lavori stradali Oddio Nooo Come ho fatto Come ho fatto A non andare a Vi giuro che non avevo il controllo In quel momento E non so come sono passato Tra un palo E Ok E un idrante Oddio qua manca qualcosa Però Qui manca qualcosa Che No Kiflo No No E adesso No Ho perso Kiflo No Niente Ho perso la sfida Ragazzi Grazie mille a tutti Della visione Mi raccomando Lasciate un like Scrivetemi qua sotto Nei commenti Che cosa ne pensate Di questo video E non perdetevi Uno di questi due video qua O questo O questo Qualunque clicchiate Non è un problema Sono entrambi Credo bellissimi E quindi Vedete quale dei voi Quale dei due Volete scegliere Voi Detto ciò Grazie mille a tutti Ragazzi In descrizione c'è il mio instagram Ha detto ciò Grazie mille Arrivederci